Buonasera a tutti ragazzi, mi ritrovate finalmente sul mio canale. Quest'oggi voglio parlarvi di un avvenimento il cui anniversario è caduto pochi giorni fa e che è molto importante ma che molto probabilmente quasi nessuno di voi conosce. È un evento che in effetti ha una notorietà quasi del tutto locale, appunto di dove avvenne, ma di un'importanza nazionale e level italiano. Sto parlando della marcia su Bolzano. Non era la marcia su Roma? Andiamo con ordine, perché le cose sono ovviamente ben concatenate. Siamo nell'ambito appunto del Tirolo da poco annesso al Regno d'Italia, appunto vittoria della Prega Mondiale 4 novembre 1918. L'Italia ottiene numerosi territori appunto che reclamava in quanto appunto di lingua e cultura italiana, ma subiti dell'impero austriaco, dell'impero austro-ungarico. E però appunto, quindi tra questi appunto anche il Trentino, che era dalla toponomastica austriaca, era chiamato il Tirolo italiano o Tirol latino, addirittura appunto Belstirol, quindi appunto ecco il Trentino, ma appunto per sentirsi più sicuro in un posizio strategico decide appunto l'Italia di annetersi appunto anche il Sud Tirolo. Lato vale Alto Adige appunto, la provincia di Bozen, di Bolzano. Perché appunto in questo modo non c'era una parte di Austria che scavalcasse le Alpi appunto e dalla quale appunto poter attaccare direttamente già passato lo sparchiacco delle Alpi, penetrare con più facilità appunto il Nord Italia. L'Austria rimaneva del tutto al di là delle Alpi e quindi appunto il Passo del Brennero assicurava appunto una certa sicurezza appunto per l'Italia da quel punto di vista appunto del confine. Bene, c'era ovviamente un problema. Già c'era una minoranza italofona di lingua e cultura italiana appunto in Sud Tirolo e appunto una maggioranza germanofona. Però appunto inizialmente si decise appunto le autorità, il sindaco, il borgomastro usando questo termine appunto ancora germanico Peratonner, Julius Peratonner aveva appunto disposto che le due appunto comunità di maggioranza tedesca e di minoranza italiana appunto convivessero pacificamente. Va bene, accettiamo l'annessione al Regno d'Italia, ma appunto cerchiamo di far convivere queste due anime pacificamente, soprattutto questa annessione. Veniva appunto, cioè si sapeva che era una questione puramente strategica, non certo culturale o irredentistica, anche se appunto si provvide quasi subito a cambiare la maggior parte dei nomi, la maggior parte delle vie, dei nomi dei paesi e appunto anche a cercare appunto delle radici appunto latine in questa zona delle Alpi retiche. Certo, la Rezia era una regione dell'impero romano, però come lo era anche la Gallia, come era la Ispania, la Tunisia per dire appunto fin su fino alla Britannia. Quindi diciamo che il fatto che fossero tutte zone dell'impero romano non reggeva neanche soprattutto in zona. Però appunto alla fine si capiva il discorso politico e quindi non c'erano particolari frizioni tra le due comunità. Ci avviciniamo però sempre più al periodo fascista. Il fascismo appunto proclamando un forte nazionalismo, ovviamente forte nazionalismo e forte irredentismo e forte appunto legame con il sangue versato nella Pena Grande Mondiale appunto quanti reduci erano poi diventati fascisti. E diciamo appunto ecco, noi abbiamo combattuto anche per queste zone quindi perché deve rimanere traccia del nemico tedesco, del nemico germanico in queste zone. Queste zone appunto sono annessa all'Unità Italia, non ci devono essere minoranze germaniche appunto sul nostro suolo perché appunto l'Italia deve essere unica e italiana dalle Alpi a Pantelleria, appunto le più remote isole del sud e quindi appunto bisogna cancellare questa qua. Quindi ecco che appunto il discorso di convivenza viene accantonato quasi subito. 1918, novembre del 18, l'annessione. E ricordiamo però all'epoca la regione era unica. era unica, non c'era Trentino e Alto Age, sì adesso Trentino è unica ma le due province sono molto staccate, molto libere tra di loro. E all'epoca appunto la regione era unica con capoluogo Trento, quindi appunto l'elemento italofono la faceva da padrone comunque, da punto di vista meno amministrativo e appunto si incrementò appunto l'operato di cancellazione della identità tedesca non si poteva più appunto, meglio non si poteva, il fascismo non era ancora siamo ancora nel 1921, il fascismo appunto andrà al potere nel Regno d'Italia alla fine del 22. Comunque appunto si facevano pressioni, si praticavano violenze contro appunto l'elemento germanico il quale subito, fin da subito rispose chiudendo ecco appunto come Julius Peradoner da uomo del dialogo tra l'altro appunto ecco ricordiamolo Borgomastro sotto l'Austria fin dagli anni 90 e l'800 lui era capo dell'amministrazione della città di Bodden sotto l'Austria appunto rimesso appunto, riconfermato dalle nuove autorità appunto italiane e adesso appunto basta, dice va bene basta dialogo, l'elemento germanico deve trionfare diventa un pangermanista ferocissimo, scaldatissimo appunto quindi per la riannessione del sottirolo tedesco alla madre patera austriaca per appunto schiacciare la minoranza italofona per cancellare appunto qualsiasi traccia di identità culturale che non fosse quella della maggioranza tedesca appunto germanofona e quindi appunto questi attriti da una parte appunto la italianizzazione cancellazione della toponomastica cancellazione delle tradizioni dall'altra appunto lo stesso discorso da parte della maggioranza tedesca il problema è che appunto mentre il discorso dei tedeschi era più amministrativo più legato in qualche modo a una certa diplomazia perché c'erano comunque legami con l'Austria con la neonata Repubblica Austriaca e gli italiani invece appunto col fatto che c'erano le squadre fasciste molto molto attive siamo appunto nel cosiddetto biennio nero il biennio nero appunto 21-22 che portò appunto il fascismo in potere e che era la risposta al biennio rosso 19-20 appunto in cui le violenze comuniste dei socialisti massimalisti eccetera avranno appunto portato le squadre le squadre d'azione fascista appunto a ottenere sempre maggior consenso appunto e a potersi scatenare liberamente e vendicarsi diciamo appunto così delle violenze appunto bolsheviche e appunto quindi il nemico non era solo politico ma anche culturale quindi ecco che le squadre fasciste in particolare del Trentino del Veneto salivano fino appunto all'Alto Agio a Sottirolo appunto e picchiavano duro appunto quelli che non erano convinti delle italiane italiane da zona ecco appunto lì la ricerca di una di antenati italofoni o latini comunque in zona divenne sempre più forte lì era la zona c'era una canzone appunto il barrenero italiano che era stata scritta appunto sulla melodia di una canzone tedesca appunto su tirolese diceva là dove Druso un dì passò io ci ritornerò Druso appunto era quel figlio di Tiberio appunto siamo al tempo del primo impero romano appunto al primo tempo dell'impero romano appunto che aveva colonizzato questa zona aveva conquistato per Roma questa zona e la vetta dell'Italia col mio cuore difenderò appunto era un canto molto in voga al tempo che venne poi ripreso durante la RSI ma questa è un'altra storia 43-45 dicevamo appunto il picco delle violenze avvenne la cosiddetta domenica di sangue di Bolzano il 24 aprile 1921 nel capoluogo su Tirolese ci fu una importante fiera campionaria una un'esposizione appunto commerciale alla quale tra l'altro appunto i commercianti italiani non erano invitati i commercianti italiani o italofoni non erano stati invitati poteva partecipare solo a comunità tedesca con tradizioni tedesche con corti folclistici tedeschi e senza appunto presenza neanche sui edifici pubblici di bandiere italiane per quanto appunto la zona fosse a tutti gli effetti parte del Reino d'Italia una provincia come tutte ecco bene chi era quindi questa questa questo discorso appunto dalla parte tedesca dalla parte italiana dobbiamo sapere prima di tutto chi era a capo degli squadristi nella zona del Trentino niente meno che Achille Starace chi era Achille Starace Achille Starace era un pugliese un salentino precisamente e che era stato ufficiale di Bersaliena per l'Aeromondiale forse addirittura anche prima forse addirittura già nella guerra di Libia nel 1911-12 sa di fatto che era uno degli squadristi più scaldati era uno dei fascisti proprio più duri che infatti poi negli anni Trenta diventerà segretario del partito nazionale fascista proprio il vertice del partito subito dopo Mussolini e si distinse appunto negli anni Trenta per essere veramente l'anima del fascismo quello del saluto romano che doveva essere fatto in un certo modo secondo un certo regolamento quello del bisogna usare il voi non il lei usare parole italiane non straniere quindi ecco che tramezzino invece di sandwich per dire rimbalzello invece di invece di ping pong e il discorso del si fa il sottoromano non si deve dare non si deve fare la stretta di mano perché qui e là e appunto questo uomo guidava i fascisti in una zona così delicata come quella appunto del Trentino e del Sud Tirolo e quindi appunto ecco che decise di dare una lezione a questi tedeschi i quali in effetti però avevano anche un piccolo peccatuccio diplomatico sulla coscienza perché nella stessa giornata la stessa domenica 24 aprile del 21 si tramava nei circoli pangermanici di pangermanisti di di Bolzano per fare un colpo di mano per appunto permettere l'annessione con un referendum accordato con Vienna appunto in via via segreta appunto per riannettersi all'Austria beh diciamo che gli squadristi attaccarono gli anticiparono però attaccarono il soggetto sbagliato non si scontrarono appunto con gli oltransisti del pangermanesimo con gli oltransisti dell'italizzazione i fascisti attaccarono un corteo inerme assolutamente folcloristico disarmato e fecero un morto fecero un morto che era Franz inerofer Franz inerofer e altri non era che un giovane maestro elementare della zona che aveva portato i suoi per quanto fosse domenica aveva comunque portato la classe in gita perché appunto era un'occasione folcloristica era la prima volta dalla fine della guerra che dalla fine della guerra mondiale appunto che si io se voglio dire fa questa importante fiera locale e quindi appunto ci fu grandissimo scalpore e quindi ecco i fascisti criminali hanno creato il martire appunto se prima ci potrebbero essere comunque delle legittime frizioni perché certo sbagliava chiaramente sbagliava sbagliavano gli oltransisti dell'italizzazione in una zona che l'italiano non aveva mai avuto nulla sbagliavano però chiaramente anche gli oltransisti del pangermanesimo a fare questi complotti di nascosto ai danni dello stato italiano certamente però appunto in questo modo la ragione passò del tutto nelle mani appunto del partito di Peratoner diciamo così ecco bene arriviamo al primo ottobre 1922 cent'anni fa cent'anni e pochi giorni fa esatto appunto avvenne la cosiddetta marcia su Boden nei primi giorni dal primo al 4 di ottobre 1922 Peratoner aveva negato di concedere alla comunità italiana una scuola la Elisabeth Schule scuola di Elisabeth Elisabeth ricordiamo i rassisti no l'imperatrice d'Austria e appunto aveva questa scuola a Bozen questa scuola doveva essere tolta alla comunità germanica e affidata alla comunità italofona per apprendere appunto la lingua della cultura italiana però Peratoner disse beh già non mi va genio questa cosa e soprattutto consideriamo la statistica sono 500 bambini tedeschi contro 100 bambini italiani e la lascio 500 tedeschi e poi continuava a non volere esporre il tricolore dal balcone del municipio bene gli squadristi guidati da Staracce salirono fino a Bozen Bozen e sfilarono per le strade attaccarono il municipio costrinsero Peratoner a mettere fuori la bandiera altrimenti aveva bruciato il palazzo e soprattutto poi di mettersi via lo spedirono via lui che era stato riconfermato come sindaco dall'autorità del re a Roma da Vittorio Manuel III venne cacciato appunto la polizia e i carabinieri non fecero assolutamente nulla per impedire come spesso accadeva anche perché comunque diciamo che le forze dell'ordine erano sempre un po' il bersaglio dei nemici dei fascisti dunque per quanto dovesse rappresentare l'autorità il nemico un nemico comune ce l'avevano ecco e e quindi ecco appunto come avvenne quella che a livello locale certo importante ma molto più importante a livello nazionale perché fu ecco che mi ricollego al discorso dell'inizio fu una prova generale della macchia su Roma i fascisti possono organizzarsi possono fare un'azione di forza e averla vinta e possono farlo appunto del tutto impuniti con il benestare o almeno con la non intervento delle forze dell'ordine dello stato costituito dell'ordine dell'ordine costituito appunto e quindi ecco come come questa fu appunto una vera prova della macchia su Roma che avvenne da lì a poco alla fine del mese il 28 ottobre 1922 consci del loro potere consci del fatto che l'avevano fatta franca i fascisti appunto poterono scendere appunto a Roma e con una dimostrazione di forza sebbene non particolarmente cruente appunto non ci furono gravi danni gravi vittime appunto riuscirono a prendere appunto a convincere il re a dare la presidenza del consiglio a rendere capo del governo Benito Mussolini il leader appunto e fondatore del movimento fascista che era diventato partito da poco tempo da un annetto circa e quindi questa marcia la marcia su Bosan fu il banco di prova della marcia su Roma molto più del congresso di Napoli del partito nazionale fascista del 24 ottobre del 22 ecco buona parte della storiografia fino a poco fa indicava questa data come la prova generale tutti i fascisti appunto per il congresso del partito si erano riuniti a Napoli e quindi appunto capacità del movimento di riunirsi in grandi numeri e però comunque coordinati presentazione di capi ecco questi sono questo è il Duce Mussolini questi sono i suoi più stessi collaboratori di quadrumbiri le quattro persone appunto che gli facevano da luogotenenti da braci destri ecco e quindi però quella fu un fatto propagandistico si enunciò il discorso ecco se adesso se tra poco se entro poco il re non ci dà il governo noi scendiamo a Roma venne enunciata questa questa volontà ma appunto fu un fatto più propagandistico il vero banco di prova la vera appunto prova fisica di attacco di decisione eccetera avvenne appunto nei primi di ottobre del 22 in Sottirolo e quindi ecco appunto questo è un discorso scusatemi se mi sono dilungato come sempre ma è un discorso che ha meritato tutto un contesto precedente perché si tende a parlare molto poco al di fuori della provincia di Bolzano della di questa appunto dei problemi della comunità germanica dal dopo annessione all'Italia in avanti tanto che appunto dopo è con il fascismo appunto che la popolazione germanofono divenne una miglioranza perché molti emigrarono perché appunto dopo l'elemento germanico venne quando il fascismo preso il potere l'elemento germanico venne schiacciato del tutto era impossibile vivere da sud tirolese invece che da alto tesino quindi questo molti andarono via tantissimi poi furono gli immigrati dall'Italia appunto da altre regioni appunto che vennero mandati a lavorare o appunto decisero di andare a lavorare in sud tirolo e quindi ecco come appunto nacque una maggioranza italofona e una minoranza appunto germanofona come è tuttora e questo è il discorso insomma ripeto mi scuso di essermi dilenguato così tanto vi ringrazio molto di avermi seguito anche questa volta vi ricordo come sempre se gli argomenti vi interessano di lasciare un like e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati vi do appuntamente al prossimo video vi lascio in descrizione i links per i miei vari profili social questo canale youtube il profilo instagram il profilo instagram il canale e il mio profilo tiktok comunque troverete tutto in descrizione in un unico link grazie ancora buona serata ciao a presto